Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video nel frattempo noi guardiamo la parata delle olimpiadi e sono qui con la mia ragazza che apriremo appunto tre pacchetti due di illusione oscura e uno di OTS vinti al local di ieri allora comincio da qua comincio no dall'OTS video della Banned che boh è stato frainteso ma non ci posso far nulla dispiace per alcuni però apri apri prima li aprivi come te lo apri in cielo tu vai uno due chi è sto coso che è brutto che carta brutta ok apri guardami quello e trovami le robe belle sennò ti riprendi io trovo sempre cosa è brutta allora vai mettile più al centro però la mano ah la mano eh tu la metti fuori ma mettile più al centro così va bene oh questo mi serviva brava brava ora trovami l'altro e sono felice anzi trovami la secret e sono felice eh vabbè domani mattine di già si soffi i cancelli poffi mamma mia vai 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 oh mio dio se l'ha chiamata salio lol ok eh ok vabbè questa è un'apertura di questi due pack random grazie per l'ordine dato dalla mia ragazza che non so fare i video e quindi la licenziamo e la mandiamo tutti a un quel paese con un mi piace e dai eh chi mette non mi piace è un papesino no non è vero eh vabbè comunque ragazzine prossimo video vedremo di fare qualche decklist la video porterà ancora il report dello snakepeak che farò appunto oggi pomeriggio credo e niente arrivederci al prossimo video saluto almeno ciao ciao